Tra le tante giornate intitolate a questo o a quell'aspetto della nostra quotidianità, quella dei calzini spaiati prevista il 2 febbraio, celebra il valore della diversità, quella che accoglie l'altro, valorizza le differenze e tinteggia di unicità la vita di ciascuno. E così i genitori sono pronti a festeggiarla con le famiglie sommesi, sabato pomeriggio in sala polivalente, protagonisti i bambini, ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria. In occasione della giornata dei calzini spaiati cerchiamo di portare sul nostro palco un evento divertente e inclusivo al tempo stesso. I calzini spaiati appunto ci daranno questa grossa opportunità. Pertanto aspettiamo alle 15.30 tanti bambini target da 3 ai 10 anni per partecipare alla magia del racconto di Martin Stiegel.